Amici di AC Milan Inside, benvenuti in questo nuovo video, con questo nuovo look. Beh, che dire, una conferenza stampa abbastanza piatta, la conferenza di Zlatan e Paolo Fonseca oggi. Non hanno detto niente di che, mi hanno stizzito un pochino delle dichiarazioni relative alle ambizioni. Continuavo a ripetere il fatto che i tifosi volevano vincere, sottolineando i tifosi, quindi a lasciare intendere che per la società non è un'ambizione primaria, ma come voleva si dimostrare dal mercato attualmente che stiamo facendo. Inoltre ha detto che se non parte nessuno non entra nessuno, nonostante le tante competizioni che abbiamo e le miliardi di partite che dobbiamo giocare, la rosa comunque vorranno tenerla corta. Raga, io comincio a vederla un po' così così, un po' così così, non mi fa impazzire la situazione attualmente. Chiaramente, come dico sempre, vediamo, aspettiamo la fine del mercato soprattutto, prima di dare i giudizi, però l'entusiasmo comincia a calare sempre di più, vi dico la verità. Non vi chiedo cosa ne pensate perché so che siete d'accordo più o meno tutti con me, non credo che ci sia qualcuno che vede una situazione erosia. Raga, vediamo, dai. In ogni caso, sempre Forza Milan, seguite Vitraimovic, il mio profilo, e seguite AC Milan Insider per non perdervi neanche una news.